La grande affermazione di Nicola Zingaretti alle primarie del PD per la scelta del segretario nazionale dimostra la volontà di cambiamento del popolo del Partito Democratico, che è tutt'altro che morto, ha detto il segretario comunale del PD Stefano Albano, sia a livello nazionale che locale. Stefano Albano, Michele Fina e Lorenza Panei sono gli eletti per Zingaretti nell'Assemblea Nazionale. Un'affermazione forte, una grande partecipazione, hanno detto i presenti, nonostante all'Aquila Martina, ad esempio, fosse portato dall'onorevole Stefania Pezzopane. Intanto io penso che la partecipazione c'è stata sul livello comunale, 2.000 elettori hanno partecipato solo nel perimetro del comune dell'Aquila, qui dove si assommano due destre, quella regionale che ha appena vinto le elezioni, ma anche l'esperimento di questa giunta Marzillian Piccolo, che è la giunta Biondi, questo centrodestra attrazione Fratelli d'Italia e Lega. Io penso che anche qui il dato sia indicativo, il PD non è morto e anche qua in città viene visto come l'unica alternativa. C'è anche una richiesta di cambiamento forte, di cambiamento rispetto a quello che il PD ha rappresentato in questi anni, dal tema, vado veloce, dal tema di che tipo di PD deve essere, cioè se il partito ha vocazione maggioritaria, cioè il partito che può essere, tutto sommato, autosufficiente, oppure se c'è bisogno di un PD che invece cerchi di essere il promotore di un campo più largo, di un'alleanza progressista, che è un po' quello che hanno fatto Legnini e Zedda nelle elezioni in Abruzzo e in Sardegna. Penso anche rispetto a un PD che è stato percepito come lontano in questi ultimi anni rispetto al popolo, in particolare agli ultimi, a chi ha avuto più difficoltà. Per Michele Fina il partito deve recuperare il suo ruolo e tornare tra la gente, tra gli ultimi. Il risultato è molto importante, per cui ci si deve preparare bene per le prossime europee. Presente in conferenza anche Pier Paolo Petrucci, che ha rivendicato l'importante risultato di Nicola Zingaretti, auspicando l'apertura di una stagione nuova per il PD, che sia un argine alla destra, un PD però che necessariamente deve cambiare. La gente questo ha chiesto in fondo. C'è una voglia di opposizione, c'è una voglia di alternativa a questo governo. Quest'alternativa però adesso è tutta da costruire. Le parole di Nicola Zingaretti e la sua mozione sono state chiare. Adesso c'è tutto un lavoro da fare di ricostruzione di alleanza, di ricostruzione di rapporti con la società e anche, soprattutto, di un'identità forte, valori chiari e quindi un messaggio che parli anche delle prossime elezioni europee. Saranno un banco di prova importante. Trasformeremo tutta questa voglia di partecipazione in consenso a una nuova linea politica. Grazie.